Nel segno della croce, come esprimiamo noi i misteri principali della fede? Nel segno della croce, con le parole, esprimiamo l'unità e trinità di Dio, e con la figura della croce, la passione e la morte del nostro Signor Gesù Cristo. Primo, nel segno della croce, con le parole, esprimiamo l'unità e trinità di Dio. Dicendo in nome, esprimiamo la nostra fede nel mistero dell'unità di Dio, cioè dell'unica natura e senza sostanza delle tre divine persone. Noi diciamo nei nomi come sembrerebbe più logico trattandosi di tre persone. Si tratta, sì, di tre persone, ma che hanno un'unica natura e quindi un solo nome, indicante la loro natura e senza essere comune, Dio. Con le parole del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, esprimiamo la fede nel mistero della Santissima Trinità, dicendo i nomi propri delle singole persone, che, pur essendo un solo Dio, in una sola natura, in quanto persone sono realmente distinte, in modo che il Padre non è il Figlio, il Figlio non è il Padre, e lo Spirito Santo, né lo Spirito Santo è il Padre o il Figlio. Secondo, E con la figura della croce, la passione e la morte del nostro Signor Gesù Cristo. Portando la mano destra distesa alla fronte, quindi al petto, poi alla spalla sinistra e alla destra, e infine congiungendo le mani davanti al petto, noi tracciamo il segno della croce, sulla quale sofferse e morì Gesù Cristo per la nostra redenzione. Esprimiamo così la nostra fede nella passione e morte del Redentore, nel valore infinito dei Suoi meriti, ci eccitiamo al dolore dei nostri peccati, che furono la causa del dramma del Calvario. Esprimiamo la speranza di salvarci per la soddisfazione che Cristo offerse per noi sulla croce. È utile fare il segno della croce? E' utilissimo fare il segno della croce spesso e devotamente, perché è atto esterno di fede che ravviva in noi questa virtù, vince il rispetto umano e le tentazioni, e ci ottiene grazie da Dio. Primo, è utilissimo fare il segno della croce spesso e devotamente. È utile ciò che giova, come il nutrimento sano e abbondante che mantiene la salute, e le medicine che guariscono dalle malattie. Fare il segno di croce è utilissimo per i grandi vantaggi che procura. Occorre però che sia fatto devotamente. Quanto maggiori sono i vantaggi che vogliamo trarre dal segno di croce, tanto più dobbiamo farlo spesso e con devozione. I principali vantaggi del segno di croce, fatto spesso e devotamente, sono i seguenti. Secondo, perché è atto esterno di fede che ravviva in noi questa virtù. La fede è virtù infusa da Dio. E come le altre virtù, è anche una buona abitudine o disposizione. Che si acquista facendo spesso atti di fede e che si perde quando non è esercitata con gli atti corrispondenti. È come i fiori di serra che, non innaffiati, appassiscono e seccano. Ogni atto di fede è una nuova esca che alimenta e accresce il fuoco della virtù che si rafforza e perfeziona a misura che si fanno gli atti corrispondenti. Vince il rispetto umano e le tentazioni. Troppo spesso il rispetto umano ci impedisce di professare esternamente la nostra fede. La paura di ciò che pensano e dicono, di ciò che possono pensare e dire di noi gli altri, ci rende timidi e vili. Il rispetto umano si vince facendo gli atti che ci vorrebbe impedire. La paura e il timore degli altri nella professione della nostra fede si vincono efficacemente, facendo spesso e bene, anche in pubblico, il segno di croce che è un vero atto di fede. Il segno di croce serve mirabilmente anche per vincere le tentazioni del demonio, che fu sconfitto da Cristo sulla croce. Il demonio diventa impotente davanti al segno che ricorda la vittoria di Cristo sull'inferno. Il segno della croce è terribile al demonio, perché è per mezzo della croce che noi gli sfuggiamo, disse San Giovanni Battista Vianney. Quarto. E ci ottiene grazie da Dio. Il segno di croce, come atto di fede e di religione, è assai meritorio e ci ottiene la grazia del pentimento quando siamo in peccato. Se siamo spiritualmente vivi, ci accresce la grazia santificante, ottiene grazie attuali per evitare il peccato e compiere le opere buone, ci libera dai pericoli spirituali e talora anche da quelli corporali. Infine, facendo bene il segno di croce, si acquistano anche cento giorni di indulgenza. Grazie a tutti.